bella a tutti ragazzi sono la Mirko e bentornati su gameplay channel e su supermarket simulator allora ragazzi eccoci tornati e come vedete in alto a sinistra sono arrivato a livello 56 questo anche grazie soprattutto anzi grazie a un'altra mod che mi avete consigliato ma che in realtà già conoscevo e ancora non l'avevo installata ovvero la mod che velocizza il tempo infatti se guardate in alto a destra c'è scritto per 1 io premendo il tasto f4 posso andare ad aumentare la velocità fino a per 10 infatti vedete la gente fuori e anche noi se ci muoviamo andiamo praticamente alla velocità della luce è praticamente ingovernabile il personaggio con questa velocità addirittura possiamo rallentare il tempo fino a 0,5 perché mi è stata fondamentale questa mod perché ovviamente ho potuto mettere la velocità 10 per a ogni fine giornata in modo che i miei magazzinieri andassero nel giro di 30 secondi a risistemare praticamente tutta la roba in negozio so che magari questa mod infatti non l'avevo installata per quel motivo lì è fondamentalmente un cheat però onestamente se avessi dovuto raggiungere il livello 56 con i tempi normali del gioco ci avrei impiegato come minimo una settimana perché calcolate che e non sto scherzando ve lo posso giurare i miei magazzinieri a risistemare tutto a fine giornata ci mettevano minimo 20 minuti ma 20 minuti di tempo reale nella vita reale non nel gioco infatti io tendenzialmente ogni fine giornata dovevo lasciare il gioco aperto andavo a fare altro a casa e intanto loro in quei 20 minuti riuscivano a risistemarmi tutto il locale ma capite bene che ho dovuto fare tipo altri 5 o 6 giorni per riuscire ad arrivare al livello 56 avessi dovuto aspettare 20 minuti ogni giorno cioè mi ci voleva veramente veramente una vita e quindi siamo arrivati al livello 56 per cui siamo pronti finalmente a sbloccare la prima delle tre licenze nuove però prima di fare questo fatemi ordinare due robe perché va bene nel frattempo ovviamente grazie anche alla mod dei clienti aggiuntivi abbiamo raggiunto quota 45 mila dollari di conseguenza non abbiamo problemi neanche a fare un ordine diciamo bello grosso tra l'altro ho scoperto cosa a cui ho fatto caso proprio pochissimi minuti fa che in realtà noi aumentiamo esperienza anche ordinando la merce questa è una cosa che assolutamente non sapevo ci ho fatto caso perché in realtà mi mancava ancora una tacca a livello 56 ero a livello 55 un pezzo ho fatto un ordine sono arrivato per l'appunto a livello 56 quindi anche facendo gli ordini si va per l'appunto a aumentare di livello e questa anche una cosa sicuramente comoda perché insomma se no solo con i clienti effettivamente ci voleva veramente veramente un sacco di tempo allora prendo un po' di tutto tanto lo spazio bene o male ce l'abbiamo poi se avanzo qualche scatola me la tengo qua in negozio e non è un grande problema allora io non ho ancora però tolto la mod dei clienti aggiuntivi quindi va beh lo farò ovviamente per il prossimo gameplay vediamo quanti ne arriveranno oggi però va beh comunque in linea di massima allora negli ultimi giorni in realtà me ne stavano arrivando decisamente meno ero intorno al centinaio tra i 100 e i 111 più o meno però non sono mai più arrivato nonostante la moda i 120 e passa che invece raggiungevo prima ad esempio guardate adesso la tacchetta del livello sboom vedete come salite ci ha dato 118 di esperienza questa è una cosa cui non avevo assolutamente fatto caso prendo ancora un altro di caffè che tanto c'ho lo spazio perfetto ok dai qua cartigenica comunque ne abbiamo va bene mi sono avanzate un paio di scatole giusto queste della candeggina che però in realtà andando a aggiungere la roba la posso svuotare tranquillamente e queste uova qua perché purtroppo hanno una scatola abbastanza grande quindi non mi ci stanno più di due scatole dovrei fare qualche spazzetto in più perché queste uova qua mi restano mi restano sempre fuori va bene allora direi quindi che siamo pronti a questo punto per andare a sbloccare la nuova licenza vediamo un attimo che cosa ci dà perché sinceramente non lo so aspettate che prendo ancora magari un paio di cose di fustine o di fusti birra sì prendo giusto ancora un paio di cose che vedo mancano tipo un altro sushi lo prenderei magari un altro sacchetto di patate un altro parmigiano tanto vabbè come detto soldi ragazzi ne abbiamo ne abbiamo appalate quindi non abbiamo grossi problemi prendo magari un altro di farina un altro di pasta e direi che siamo a posto dai buona così vai olè vabbè un po' di scatole sì mi sono rimaste fuori ma come detto non è un grandissimo problema allora qua dove ho tutto il formaggio dunque questo qua vabbè arriviamo a 54 poi la lasciamo qua benissimo poi mi restano fuori le patatonze che vabbè le lascio qua tanto bene o male vabbè no che cacchio ho fatto vaffan bagno no ok in realtà le ho travasate nelle scatole quindi come vediamo tac il loghetto non c'è più va bene così allora qua la pizza cos'è che ho sopra allora l'altra pizza no beh allora questa la mettiamo qua così faccio il doppio della pizza ok benissimo e adesso vediamo l'ultima scatola è quella solita anche questa del sushi che la mettiamo qui perfetto ok buona quindi dicevamo allora andiamo a sbloccare per cui la licenza scusate che pago anche già le fatture se non mi scordo e la prima ci dà praticamente i fagioli un altro tipo di gelato un altro tipo di gelato ancora un'altra pizza bocconcini di patate mix di verdura va bene direi di prendere assolutamente tutto facciamo così andiamo fino in fondo e vediamo cosa abbiamo sbloccato allora fagioli gelato alla vaniglia gelato normale un'altra pizza bocconcini di patata e mix di verdure che anche questo va in freezer è tutta roba che va in freezer quindi a sto punto devo prendere necessariamente almeno due nuovi freezer per forza di cose perché ragazzi ole è cascato tutto per forza di cose perché se no i freezer che abbiamo non ci bastano mai nella vita quindi vediamo di metterli attaccati tanto a sto punto lo spazio ce l'abbiamo perché in ogni caso c'eravamo già ingranditi quindi non abbiamo grossi problemi facciamo tac e facciamo tac allora qua ne ho in realtà una che c'è un freezer che mi rimane ancora uno spazio quindi potrei mettere l'altra pizza così è di fianco comunque alle altre due pizze secondo me secondo me ci potrebbe anche stare che è questa qua ok buono così quindi questa la mettiamo qua mettiamo prima questa pizza e poi vabbè dovrò vedere ovviamente di trovargli lo spazio in magazzino allora beh per la pizza la potrei mettere anche di fianco a questa effettivamente tanto le pizze comunque bene o male vedo che insomma bastano su un singolo scaffale tanto ce ne stanno due scatole ma all'interno insomma ci sono un sacco di confezioni per cui andiamo avanti senza problemi ok allora questa direi che ci sta tutta prendiamo anche l'altra pizza a sto punto e la mettiamo qua perché cacchio qua mi incastro sempre perché c'è la scatola e c'è ok è stretto il passaggio ragazzi va bene allora qua sopra a sto punto potrei mettere le verdure quelle che non mi ci stanno ah già ho anche sta roba qua porca miseria vabbè queste le mettiamo qua a sto punto le crispy potato ok le crocchette di patate dovrebbero essere allora qua abbiamo dell'altro gelato quindi l'altro gelato lo mettiamo qua di fianco secondo me ci sta benissimo e mo devo trovare lo spazio devo trovare lo spazio anche per il gelato e do cacchio lo metto mo il gelato allora il gelato l'avevo messo qua si uno è qua quindi l'altro glielo posso mettere in parte benissimo così poi abbiamo un altro gelato ancora perfetto questo deve essere buono tipo con gli smarties buono questo buono ok e a sto punto posso fare un altro reparto qua sopra togliendo le patatine queste poi magari appena finiscono gliele metto lì e l'altro gelato lo metto qua si oddio lo potevo anche mettere sopra effettivamente però vabbè dai va bene secondo me così facciamo uno scaffale con tutte le robe da da freezer secondo me va va più che bene dai ok no questo è già pieno quindi il gelato lo mettiamo qua dove cacchio l'avevo messo qua sopra perfetto e a sto punto mettiamo le ultime cose allora questo che è il cono anche lì è già riempito no così almeno ho già fatto lo spazio nel magazzino e siamo a posto mi manca forse solo una cosa perché io mi devo in che c'è c'è qualcosa che mi fa tipo un muro invisibile allora questo me lo metti lì perfetto e a sto punto direi di mettere le ultime ah c'ho anche i fagiolini qua porca miseria o me basta mica un freezer e mannaggia la miseria eh non mi basta perché qua c'ho anche i fagiolini dove cacchio li metto dove cacchio li metto devo spostare qua il gelato a sto punto e per forza perché mi conviene un gelato metterlo qui tirami via questo ok e spostiamo a sto punto questo qua per adesso organizzo così poi eventualmente vedo di metterli un po meglio vedo poi di metterli magari un pochettino meglio perché se no non mi ci sta più nulla lo so che qua non c'entra niente i fagiolini col gelato però eh d'altronde ragazzi se no non so veramente come stradiamine metterli eh ok allora quindi questo è il gelato li mettiamo qua questa è finita sì perfetto quindi la possiamo buttare ottimo e che cacchio che mi incastro maronna santa allora ok eh queste sono le altre verdure ma credo che no infatti non ci stanno più quindi queste le possiamo mo passo di qua e va a fan bagno ora allora dicevamo queste le posso mettere via però queste verdure non le ho messe ancora da nessuna parte quindi gliele mettiamo là sopra e per forza per forza solo che mi manca lo spazio per i fagiolini questo che cacchio è alle altre crocchette di patate eppure crocchette di patate mi mancano o mi sbaglio sì esatto esatto crocchette di patate e fagiolini allora allora e che cacchio non so dove metterle queste porca miseria per qua le patatine o i gelati ma perché i gelati li ho anche sopra questi qua ah ok allora facciamo una cosa no questi sono ma scusami aspetta un secondo che no non sto a capire un attimo allora questi quali sono no questi sono questi qua ok questi sono i miei coni e questi no sono quelli giusti perché sono quegli altri e no non c'è proprio più spazio porcaccia e valadra dove cacchio li metto dove cacchio li metto intanto qua c'è della carta igienica che ci azzecca niente si vede che erano pieni gli spazi quindi li mettiamo qua a meno che non li metto là sopra al momento che non c'entrano veramente un cacchio di nulla non c'entrano veramente un cacchio di nulla ma questo qua scusa cos'è che non sono mica no non sono questi ok no no è un'altra roba niente no questo qua è pieno vabbè senti per adesso questi te li metto qua perché se no seriamente io non so dove metterli allora le patatine dicevamo me le lasci qui e ok e se riesco a uscire di qua però mi mancano ancora da sistemarsi i cacchio di fagiolini i cacchio di fagiolini non so assolutamente dove metterli perché lì gli ho messo la visite le cozza mi serve uno scaffale in più qua ragazzi mi serve un cacchio di scaffale in più vabbè questi per adesso li lascio qua poi ci ragiono dai poi ci ragiono io con calma allora intanto iniziamo a aprire ragazzi perché sono veramente curioso di vedere oggi quanti clienti facciamo poi come detto dal prossimo gameplay andrò appunto a togliere la mod diciamo dei clienti aggiuntivi perché se no ribadisco ho idea che avendo sbloccato la licenza sto giro mi arriverà veramente un botto ma un botto di gente allora tutto il resto andiamo a sbloccare nella prossima licenza degli altri alcolici vino altra birra eccetera eccetera e poi nell'ultima licenza sempre di livello 56 tutte le cose invece relative a dell'ulteriore formaggio quindi parmigiano un altro formaggio penso sia il gruviera la panna dell'altra pasta del riso dell'altro zucchero e un altro tipo di yogurt quindi anche qua e anche qua sarà un casino perché dovrò fare per forza di cose degli scaffali aggiuntivi perché se no non ce la facciamo a fare assolutamente nulla però come detto pian pianino pian pianino ragazzi si farà tutto tra l'altro tra l'altro avendo anche i soldi per poterlo fare quasi quasi penserei anche di ingrandirmi ulteriormente visto che la prossima volta ci sono delle altre cose di alcolici più tutti i prodotti da frigo nell'ultima allora gli altri alcolici qua mi ci stanno perché ho lasciato lo spazio apposta quindi non abbiamo problemi essendoci però tutti altri prodotti anche da frigo vabbè il secondo tipo di yogurt mi ci sta qua devo vedere le altre cose a livello di formaggio perché qua il frigo del formaggio è già pieno quindi ne devo fare un altro di frigo dedicato al formaggio per forza di cose e quindi vedo un attimo di sistemare meglio però ho idea che mi serva un po più di spazio per forza di cose quindi magari vediamo anche di prendere una nuova espansione così da ingrandirci diciamo ulteriormente però per il momento aspetto un attimo perché devo capire devo capire un momento quanti soldi andiamo a fare perché sennò diventa un problema perché se spendo comunque più di 20.000 poi inizio nuovamente a rimanere con pochi soldi calcolando che comunque la licenza costa mi sembra 5.600 se non mi ricordo male se prendo espansione più nuova licenza sono al verde praticamente per cui devo devo un attimino valutare come detto sembrava avessimo tanti soldi all'inizio ma tra l'ordine e insomma la nuova licenza ovviamente i soldi come sappiamo che cacchio sta a fa' si spendono e se ne spendono anche tanti tra l'altro io ho fatto un sacco di cassa in questi giorni e sono arrivato infatti a 1222 clienti fatti quindi me ne manca ancora qualcuno per insomma anche parecchi in realtà per arrivare a 1700 però comunque dai pian pianino stiamo arrivando anche a a quell'obiettivo perché effettivamente se poi iniziamo a migliorare questo qua si è buggato non so come mai non so come mai ogni tanto capita ma questo è dovuto sicuramente a tutte le varie mod capita che mi si buggino gli operai su qualche scatola e quindi basta comunque riavviare la partita tendenzialmente e mi si sbaggano senza troppi problemi però purtroppo ogni tanto succede con tutte le mod che ho messo succede che appunto i magazzinieri arrivano qua davanti si fermano e non fanno più nulla per sbaggarli basta semplicemente salvare uscire dalla partita andare nel menu ricaricare la partita e si sbaggano solitamente senza senza nessun tipo di problema ok allora qua anche tutto pieno va bene vediamo ste patatine riesco a mettere qualcosa assolutamente no comunque stanno iniziando a comprare anche i prodotti nuovi ottimo vediamo se queste riesco a buttarle io sì perfetto ok queste dovrebbero essere finite ottimo tiriamo via la scatola e direi di riaprire la cassa perché inizia ad esserci nuovamente un bel po di casino come detto avendo sbloccato la nuova licenza sono curioso di vedere quanti clienti andremo a fare oggi con la mod in modo anche poi da fare diciamo così comunque un paragone con il prossimo gameplay in cui per l'appunto non avrò invece la mod e quindi vediamo magari quanti clienti facciamo senza per l'appunto l'ausilio della mode vediamo avendo comunque appunto fatto una nuova licenza allora 7 e 55 ti è vai con dio questo è un furto perché ma gli ho dato il resto sbagliato cacchio mi sa che gli ho dato il resto sbagliato ragazzi gli ho dato il resto sbagliato ma porca la miseria è la prima volta che mi capita di leggere questo è un furto perché secondo me gli ho dato il resto sbagliato ma se ne vanno anche se gli do il resto inferiore non pensavo o a meno che non si è lamentato perché erano troppo costosi i prezzi perché è la prima volta che leggo quella frase sopra la testa di un cliente sinceramente quindi non ho capito se era dovuto perché ha trovato qualcosa di troppo costoso o semplicemente ridagli e questo si è buggato niente senti questo me lo tengo qua me lo tengo qua se no questo si bugga tutte le volte e quindi non ho capito se era riferito al prezzo troppo alto di qualcosa che ha trovato o perché ho magari sbagliato a dargli il resto perché a sto punto dovevo mettere i fagiolini adesso gli vado a mettere gelato mix allora intanto riprendiamo anche già le cose nuove iniziamo a prendere qualcosa che manca prima delle 9 così intanto qualcosina la iniziamo a buttare nuovamente in magazzino così che i nostri possano comunque iniziare un po' a sistemarla e poi vabbè come detto dopo andrò a fare tutto il grosso dell'ordine nella giornata successiva quando già avranno rimesso a posto un bel po' di roba vabbè patatine fritte no la scatola l'avevo finito ok no quindi non ce l'ho più va bene prenderle queste facciamo così carta igienica sì questa sì questa pure questa questa vabbè prendo un po' di tutto tanto come detto adesso i soldi per fortuna non ci mancano per cui non facciamo una grande fatica rifarla poi togliendo la mod sicuramente tutto sarà più complicato però 2005 di ordine direi che direi che ci può stare direi che ci può stare dai va bene allora senti questa te la metto qua tanto questa è completa così la tiriamo via dalle balle e non c'è più il problema che si bagga l'operaio ok madonna quanta roba pensavo ce ne stesse di più è sinceramente pensavo ce ne stesse di più in magazzino invece invece col cacchio ma non ci sta neanche la farina ma sei serio ma sei serio vabbè questa vediamo se ci sta fuori diamo un attimo se ci sta voglia sì ok questa è fatta quindi tiramela via benissimo vabbè dai diamogli una mano a sti a sti magazzinieri se no se no stanno qua fino a dopodomani allora il parmigiano vediamo se già le cose gliele posso mettere io magari no in realtà vabbè qua ben poco quindi questo lo andiamo a mettere via ok passiamo di qua che se no mi baggo male e va bene ah no questo è già ah cacchio perché c'avevo già l'altro il parmigiano e chi se lo ricordava vabbè per un po non compriamo più parmigiano ragazzi per un po non ne andremo più a comprare ah devo anche sistemare i fagiolini è vero è vero è vero me l'ho scordato ma quali sono questi sì aspetta fai così ma porca miseria mi sa sì credo aver preso un sacco di cose abbastanza inutili però però vabbè fa niente ok queste sono piene senti questa lasciamela un attimo qua lasciamela qua madonna vi ricordate all'inizio inizio della serie che si mettevano tutti gli scatoloni in mezzo alle balle mamma mia quanti ricordi sta cosa che ho messo la scatola per terra mi ha fatto veramente affiorare un ricordo perché questo non lo facevo più da una vita perché insomma da che abbiamo il magazzino ovviamente non andavo più a mettere nulla per terra invece all'inizio madonna vi ricordate che casino con tutti con tutti gli scatoloni ovunque in mezzo al negozio facevo le pile pile di robe anche perché all'inizio non c'erano i magazzinieri quindi effettivamente era davvero un disastro mettere a posto noi tutto perché eravamo veramente obbligati insomma a mettere a mettere a posto tutto allora qua il musacca è qua ma più di così non ci sta va bene allora qua mettiamo questi così questa almeno questa la tiriamo via dalle balle perfetto e vediamo di mettere ok qua abbiamo dell'altro sushi che mettiamo così ne ho tolta una e ne ho rimessa un'altra però almeno non ce ne sono due non ce ne sono due siamo a posto allora facciamo le patatine e stavolta le posso mettere perfetto qua i cereali veramente non mi ci stanno i cereali sei serio a no a no vabbè sì ci stanno sì sono pieno di scatole ma in realtà ho potuto travasare quella senza problemi il latte credo anche di riuscire a farcelo stare no assolutamente no perfetto così quindi questa per adesso me la molli giù ok e dopo di che andiamo a mettere via upollo perfetto ragazzi sono veramente curioso di vedere alla fine quanti clienti abbiamo fatto avendo sbloccato per l'appunto la nuova licenza non credo tanti di più eh perché comunque non ho visto chissà chissà quale affluenza eh però sì magari qualcosina in più l'avremmo l'avremmo fatta di sicuro eh questa non è che ci sta fuori magari eh sì sì assolutamente sì hai voglia perfetto e direi che ci siamo ok eh allora vediamo un attimino di fare la fine giornata così vediamo no infatti ne abbiamo fatti 114 il resto sbagliato uno sì allora perché ho proprio sbagliato io dare il resto eh non pensavo che si potesse dare il resto inferiore e fare andar via il cliente cioè pensavo che finché il resto era sotto eh la cifra comunque non te lo faceva dare te lo faceva dare potevi darlo sbagliato in più e quindi andavi tu in perdita perché gli davi più soldi di resto ma in meno sinceramente beh era proprio la prima volta che che mi capitava e e quindi vabbè abbiamo scoperto anche questa cosa eh prodotti troppo costosi uno vabbè eh quello si vede che c'era qualcosa ehm non settato bene comunque alla fine abbiamo fatto 114 clienti quindi sì per il momento eh l'acquisto della nuova licenza non ha portato chissà quanti clienti in più rispetto alla mod vi ricordate che prima ne facevamo eh anche 126 ora è arrivato a farne 126 o 129 addirittura off camera eh di conseguenza mh sì per fortuna ecco perché come detto non sono riuscito a tirar via la mod quindi speravo che non mi facesse disastri nel senso che ehm speravo che appunto non mi aumentasse che ne so a 150 di botto i clienti che poi mi trovo veramente nei casini a a gestire una roba del genere ehm giusto in chiusura ragazzi perché vabbè per oggi volevo farvi eh questo video dove appunto si acquista la nuova licenza eh ne ho approfittato per farvi vedere anche la moda appunto del tempo e vi faccio vedere quanto cambia a livello di magazzinieri mettendo il 10x vedete eh devo dire è effettivamente tutta ma tutta un'altra cosa ehm questa moda la trovate sempre sul sito nexusmod.com eh quindi andate lì cercate sempre nelle mod eh più popolari eh e lì trovate insomma quelle più belle comunque quelle eh effettivamente più utili tra cui appunto anche questa che mi sembra si chiami proprio x10 qualcosa del genere e mh anche l'installazione seguite per l'appunto la guida che c'è nella descrizione della mod eh ma è il solito spostare alcuni file eh in un paio di cartelle differenti quindi niente niente di complicato e di sicuro vi eh facilita veramente veramente la vita ribadisco soprattutto nel momento in cui avete ehm un supermercato abbastanza grande con tanti prodotti da sistemare credetemi che anche con il massimo dei magazzinieri e qua è tra virgolette un po' un limite del gioco nel senso che ce ne da solo quattro al massimo impiegano eh come detto almeno almeno venti minuti se non mezz'ora a risistemare tutto un locale di queste dimensioni che è ancora piccolo in realtà per eh gli ingrandimenti che possiamo fare figuratevi poi andando avanti con un locale magari ancora molto più grosso e con ancora molti ma molti più ehm articoli diventa veramente una cosa impossibile cioè dovete lasciare il gioco aperto un'ora per riuscire a sistemare tutto perché anche se gli date una mano comunque anche voi impiegate ovviamente un sacco di tempo perché insomma se vi pronti ce ne sono tanti a fare avanti indietro eh ci mettete veramente veramente una vita invece invece avete visto insomma con questa moda nel giro veramente di pochi secondi si riesce tranquillamente a eh risistemare tutto senza eh troppi problemi come detto sapete a me non piace utilizzare mod eh che facilitano troppo la vita però eh insomma mh il locale lo vedete essendo bello grande mi diventava veramente problematico perdere più di venti minuti ogni singola giornata passata in game era diventava veramente difficile detto questo ragazzi quindi io direi che posso concludere qua questo nuovo episodio dedicato a supermarkets simulator quindi contento di avervi fatto vedere appunto una nuova mod una nuova licenza abbiamo altre due licenze da sbloccare ma come detto eh nel mezzo vorrei anche ampliare ulteriormente il negozio perché abbiamo bisogno di mettere comunque nuovi frigo ehm di sistemare meglio un po' di prodotti sicuramente dovremmo prendere anche nuovi scaffali per il magazzino perché eh se no tutti gli altri prodotti non so veramente veramente dove metterli quindi insomma abbiamo ancora un bel po' di lavoro da fare sempre in attesa ovviamente di nuovi aggiornamenti che spero arrivino quanto prima detto questo ragazzi quindi io vi invito come sempre a sostenere questa serie lasciando un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube oltre siano grazie sotto di ogni mio video vedo questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto ci becchiamo nei prossimi gameplay ciao belli